Creatività più non posso per gli studenti degli istituti superiori di Pescara oggi e domani a Piazza Salotto. Di scena la giornata dell'arte e della creatività organizzata dalla consulta provinciale studentesca, il presidente Simona Moruso. Abbiamo finalmente portato i ragazzi delle scuole superiori in Piazza Salotto per un evento che non si svolgeva da oltre dieci anni. E' un evento all'interno del quale, come ho detto già anche in conferenza stampa, i ragazzi possono esprimere la propria creatività e i propri talenti senza sentire il giudizio di nessuno perché non c'è assolutamente l'area della competizione ma l'area dell'inclusività, della socializzazione e quindi della condivisione delle proprie capacità e dei propri interessi. E' sicuramente una sensazione molto forte, finalmente stravolti da così tanti ragazzi, finalmente il comune di Pescara si è dedicato diciamo totalmente ai ragazzi, è un'emozione molto molto forte. Nasce quest'idea semplicemente quando mi hanno contattato, mi hanno detto vieni a presentare insieme a Stefano e Alberto questo spettacolo, mi sto divertendo veramente tanto, secondo me anche più dei ragazzi, è un'emozione veramente bella, bella, bella.